Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale per questo nuovo video di Kingdom Hearts ma questa volta iniziamo una nuova serie iniziamo insieme Kingdom Hearts 2 naturalmente come con tutte le altre serie io inizierò in modalità standard in modo da farvi vedere la storia del gioco e non per farvi vedere come gioco io in sostanza come si gioca nelle modalità più difficili iniziamo con queste impostazioni e diamo il via a questa serie mi raccomando ragazzi però se le video vi piace se la serie vi piace se i miei video passati vi sono piaciuti datemi un pochino di fiducia mettete un bel like iscrivetevi commentate se riuscite condividete il mio video con qualcuno in modo che io possa essere un po' più conosciuto qui su internet vi ringrazio in anticipo partiamo subito con questa nuova ed entusiasmante avventura un sogno scattato che è come un ricordato un ricordato che è come un ricordato un ricordato che è come un sogno scattato un sogno scattato un sogno io voglio lineare i pezzi te e te e te grazie 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 Il sembra molto come tu. Sono quello che ci sono, o... magari sono tutto che ci fosse. Il mio nome non è importante. E tu? Ricordi il tuo vero nome? Sora? Wow! Give me a break, I... Giving up already? If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? This world has been connected. What? Who's there? Tied to the darkness. Sora? Don't ever change. The door... Is opened. What? You understand nothing. Sora... Bellissima l'animazione iniziale. Troppo troppo bella ragazzi. Comunque ci sono già due personaggi di nuovo incappucciati come quelli che abbiamo visto in Chain of Memories, di cui non conosciamo l'esistenza. La nostra avventura qui parte con questo personaggio. Non utilizzeremo Sora. L'ho sognato ancora. Secondo me si riferiva a Sora. Secondo me lui ha sognato Sora. Anche perché come avete visto nell'animazione principale si erano Sora, Paperino, Pippo, i membri dell'organizzazione, eccetera, eccetera. E guardate un po' dove ci troviamo. Crepuscopoli ragazzi. Quel mondo che non conoscevamo di Kingdom Hearts Chain of Memories. Uh, sono proprio contentissimo di rigiocare a questo gioco ragazzi. Contentissimo. Spero che lo siate anche voi. E spero appunto che vi piaceranno i miei video. Ok, il primo giorno. Cipher. 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 Il cuore è che arriva. Chiaramente lo va Looking a Veitere molto presto. Um, mi viene in mente qualcuno da sentire questa voce? A me sì. Onestamente. come potrete notare continuo sulla mia convinzione che durante le animazioni durante i dialoghi parlati io non devo interferire quindi non mi sentirete parlare mai nei dialoghi adesso che c'è da leggere mi sentirete da questa parte ok vabbè i tasti sono gli stessi ok bene se non ricordo cosa devo fare prem options ma non ce ne sarà il bisogno come sempre ci si può appendere diamo inizio a questa indagine ciao roxas non ti pensavo capace di una cosa così meschina noi non abbiamo rubato proprio niente chiaro vorrei tanto crederti ma chi altro avrebbe potuto rubare quella roba quale roba come se non lo sapessi tanto io non te lo dico vai a chiedere al negozio degli accessori bene il nostro roxas a quanto pare è accusato di alcuni furti vediamo se sarà accusato anche da lei forza roxas chiedi a lei comandi di reazione come sempre si utilizzano con triangolo vedete ciao roxas comandi di reazione appaiono in determinate situazioni usali spesso va bene oh sei tu roxas ti prego non deludermi sei sempre stato uno dei miei clienti preferiti io non sono un ladro va bene non è divertente sapere che tutti sospettano di me allora devi trovare un modo per scagionarti anche la signora del negozio di caramelle è molto dispiaciuta bene pensano tutti che roxas sia un ladro ragazzi per chi sa già che roxas non è un ladro like 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 roxas hai visto il mio gatto da qualche parte? beh abbastanza semplice trovarlo beh ok R1 per agganciare il bersaglio aggancia il gatto va bene ah già scusate ragazzi ho questo controller qua che ogni tanto sbarella devo assolutamente cambiare il controller perché non me l'ho non mi funziona R1 prendo a cazzotti e se non funziona niente non ho voglia di funzionare eh sì devo proprio premere R1 ragazzi datemi solo un attimo che cambio il controller ok ci siamo a posto è andato tutto bene va bene sì annullo con R1 perfetto grazie roxas hanno rubato qualcosa anche a lei? oh cielo sì una cosa molto importante beh per sua informazione non siamo stati noi ti credo oh grazie per la fiducia che cosa le hanno rubato? le mie le mie preziose eh sempre che il colpevole vada in giro a rubare e non solo le ma anche la parola eh vabbè questo non è un ladro comune chissà se Cypher sa niente di questa storia dobbiamo parlare con lui andiamo al ring di sabbia ragazzi Cypher questo nome non vi dice niente io spero proprio di sì perché è un personaggio che dovrebbe essere abbastanza conosciuto io spero che sia conosciuto dai oh vivi Fujin e Rajin ecco qua Cypher ecco qua Cypher non che abbiamo bisogno di provare che sei pericolo riprende ahahahah ora parli oh credo che se arrivi sui piedi e preghi magari lo farò spiegare no eh appunto che a chi ho fai oh ah ah già giusto anche qua c'è una piccola scelta diciamo eh dunque vediamo un po' assomiglia a uno scettro no impugnatura difensiva no ragazzi io inizio sempre con la spada sì questa è perfetta il tumorale è cresciuto attacco più uno dai 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 che facciamo la festa a Cypher solito tutorial HP e MP avvicinati far attaccarlo solito eh beccati questo non ti attaccano al momento giusto va bene va bene sta catenando al momento giusto ok adesso lo spacchiamo non mi attaccherai neanche una volta oh no volevo un po' sfotterlo guarda un colpo me lo sono lasciato dare ti ho dato un contentino cipher non si sente così no il torneo decide ecco il ladro che era che era il thief adesso ti prendo sembra una anguilla stranissimo dove vai vieni qua tanto prima o poi ti prendo eccolo qui affrontiamolo siamo qui siamo qui per voi mio signore vabbè schifezza anguilletta ho paura che con quest'arma non possiamo fargli niente eh no decisamente dai ragazzi che c'è il colpo di scena eh il keyblade non un normale keyblade quello è il keyblade di Sora ragazzi la catena regale me ne è andato dove è sconfitto il nemico ci sono le sfere gialle per i munni verdi per la vita e quelle trasparenti per i punti magia solito ecco le foto rubate ladro di foto cattivo cattivone non si fa cattivo c'è una donna tu sembra felice Roxas non lo so quindi qualcuno ha notato che tutte le foto scoperte sono di Roxas? oh quindi è quello che tutti pensano che era noi e Cypher non avrebbe avvicinato a noi sono veramente tutti di me? si si guarda c'è una foto non è vero non è vero se il figlio voleva scoprire la reale Roxas o qualcosa? vabbè sei serio perché qualcuno vuole scoprire una cattiva come Roxas? oh grazie ok loro se ne vanno ok loro se ne vanno ok 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 Questa roba strana Capirete tutto naturalmente Namine, l'organizzazione Poi le deeds E c'è un tizio Incappucciato Potrete capire chi è Potreste immaginarlo più che altro Eh beh Che bei ricordi Proprio quello Ok siamo al secondo giorno Cos'è? Vuoi provare a farlo tornare? Eh, mi sa di sì ma Direi che non funziona C'è un tizio incappucciato? Questa è un tizio incappucciato Questa è un tizio incappucciato Ha senso Questa è un tizio incappucciato Questa è un tizio incappucciato Ok ragazzi abbiamo sbloccato il primo salvataggio Quindi direi che ci possiamo salutare qui E vederci poi la prossima volta Vi ricordo come sempre che pubblico un video al giorno Sempre alle 16 Vi ricordo di supportare il canale Lasciate un bel like Condividete Iscrivetevi al canale Condividete il video Ragazzi veramente Aiutatemi un pochino a crescere Io spero che i miei video vi piacciono Se avete consigli Sono veramente pronto A seguirli E ad accettarli Ragazzi Alla prossima Ciao